Buongiorno e bentrovati a questa nuova puntata della pubblica Radio Coltiva la Chiesita. Sono qua con Cristina, coach del progetto Coltiva la Chiesita. Ciao Cristina. Buongiorno Mirko, ciao a tutti. Abbiamo una domanda. Sì? Allora, ci è arrivata una domanda da parte di una lettrice che ci scrive Non sono capace di farmi rispettare. Cosa posso fare per farmi valere? Cosa ci dici Mirko a tal proposito? Una domanda molto interessante e richiede l'utilizzo di diversi concetti del metodo Cambia Marcia. Prima di entrare nel merito però ricordo come al solito a chi non fosse ancora iscritto al canale iscriversi così ricevete le notifiche man mano che escono le prossime puntate della rubrica. In più se volete aiutare il progetto mettete mi piace, condividete il video con i vostri contatti. Se avete dubbi, domande, curiosità, considerazioni usate i commenti. Ti sarà un piacere per noi leggere il commento e poi rispondo. Allora, la domanda è come faccio a farmi rispettare, come faccio a farmi valere? Esatto. Allora, per rispondere gioco un po' con le parole. Gioco un po' con le parole non per fare quello che noi scherzando chiamiamo il precisismo o perpignoleria, ma perché c'è un concetto che vorrei far passare. E quindi il gioco di parole è questo qui, sposterei l'attenzione dal fare rispettare me, che può suonare un pochettino egoico, a fare rispettare che cosa? I miei bisogni, i miei valori e le mie passioni. Questo è il primo passo. Quindi partire dal linguaggio per passare il concetto. Un aspetto fondamentale del metodo cambio a marcia è quello della disintegrazione del sé. E quindi noi siamo in buona misura i nostri bisogni, noi siamo in buona misura i nostri valori, siamo in buona misura le nostre passioni, ma attenzione a non identificarsi e non attaccarsi troppo a questi bisogni, questi valori e passioni. Altrimenti siamo definiti e controllati dai bisogni, valori e passioni quando non vengono rispettati. Quindi il primo suggerimento che viene a dare è iniziare a guardare la realtà in termini di come cercare di far rispettare, come cercare di far valere i miei bisogni, valori e passioni, anziché di cercare di far rispettare me o di far valere me stesso. Se sposiamo a questo approccio, il secondo passaggio è mettere a fuoco i propri bisogni, valori e passioni. Così passiamo da Oddio non stai rispettando me a Mi piacerebbe che questo bisogno trovasse una risposta. Il terzo passaggio, una volta che ho messo a fuoco i miei bisogni, i miei valori e le mie passioni, e questo è un passaggio importante, perché per esempio io scherzando con mia figlia, fino a 44 anni come i gatti, uso questa espressione sciocca, non avevo contessa, non aveva chiarezza dei miei bisogni fondamentali. Quindi il lavoro di mettere a fuoco i propri bisogni è un lavoro importante e il metodo Cambia Marcia è nato proprio per sistematizzare tutto il lavoro che avevo fatto a suo tempo con il counseling, con il mastering counseling estatico, il mastering counseling olistico, la psicoterapia, i viaggi, le spedizioni pratico-spirituali in India. Quindi, posto che abbiamo messo a fuoco quali sono i nostri bisogni e le loro passioni, il primo passo per farli rispettare è rispettarli noi. Perché? Perché è più facile dare risposta ai nostri bisogni quando entra in gioco il nostro comportamento. Più difficile invece è riuscire ad orientare il comportamento degli altri. L'altro passaggio, quindi in questa domanda ci sono tante tessere del metodo Cambia Marcia che adesso vado a enumerare in questo modo. Poi chi vuole approfondire c'è Cambia Marcia Start e poi chi vuole approfondire ultimamente c'è il percorso vero e proprio. L'altro passaggio qual è? È che c'è un elemento fondamentale da accettare e d'accogliere. E' che noi possiamo avere dei bisogni, possiamo e mi viene a dire dobbiamo, questo è uno delle responsabilità del mestiere più importante della nostra vita che noi in Cambia Marcia chiamiamo amministratore delegato della me stesso SPA o chiamiamo delle volte anche capitano della nostra anima. E qual è questa responsabilità? È quella, dopo che ho visto i miei bisogni, dopo che accolgo i miei bisogni, dopo che ho dato risposta io per primo ai miei bisogni, dare voce a questi bisogni nell'interazione con gli altri e quindi comunicarli. Questa è la base della famosa assertività. Che cos'è l'assertività? Anche se, per esempio, se guardi Wikipedia o se guardi molti blog di blogger e non di addetti ai lavori, quindi non di counselor, ti dicono che l'assertività ha a che fare con portare avanti i propri diritti. Sì, va benissimo i propri diritti, ma una cosa che manca è proprio il riconoscimento, l'individuazione dei propri bisogni. Quindi l'assertività è, uno, vedere i propri bisogni, due, comunicarli nell'interazione con gli altri e nel farlo non avere l'aspettativa che, siccome li ho comunicati, verranno rispettati. Questo è un giochino abbastanza importante da tenere a mente, perché altrimenti si parla di pretese. Non stai più comunicando un bisogno, stai avanzando delle pretese nei confronti degli altri. Tendenzialmente questo non è molto nutriente. Poi, in qualche modo, le pretese possono anche essere soddisfatte, ma questo va a scapito della relazione. Quindi, ricapitolando, so che è un'espressione comune. Anch'io delle volte posso dire devi imparare a farti rispettare o voglio imparare a farmi rispettare. Però questa espressione non è un'espressione che descrive accuratamente ciò che andrebbe fatto. Quindi, in questo caso, visto che mi fai una domanda, ne approfitto e più che vuole far rispettare se stessi, cercare di portare avanti in modalità assertiva i propri bisogni. Quindi trasformerò in questo modo la domanda. E come si fa? Dicevo prima, uno, capire quali sono, metterli a fuoco. Due, essere noi i primi che rispettano questi bisogni. Fammi un esempio. Io ho bisogno di avere una conversazione scevra da giudizi. Allora, prima di portare avanti questo bisogno con gli altri, siamo sicuri che noi per primi delle volte non cadiamo la trappola di giudicarci un po' troppo? Roba che noi in camia marcia chiamiamo ego normativo, quindi quella vocina che ti critica costantemente, che trova costantemente i difetti, che svaluta il tuo operato. Quindi di fronte al bisogno nella relazione con gli altri, che è molto comprensibile di non essere svalutato, di non essere sottoposto al giudizio, di non essere sottoposto a una batteria di critiche, questo bisogno, prima di portarlo avanti, comprensibilmente e giustamente nella relazione con gli altri, verificate che sia rispettato nella relazione con voi stessi. Era questo il messaggio che mandavo prima. Adesso vi ho fatto un esempio. Dopodiché c'è il passaggio di portare la richiesta di soddisfazione, di rispetto di un bisogno nella relazione con gli altri. E qui l'avvertimento è comunicatelo in maniera assertiva. Un modo per farlo, ad esempio, è partire dall'io e non partire dal tu. Cosa vuol dire partire dall'io anziché partire dal tu? Facciamo un esempio. Anziché dire tu mi critichi sempre, dire io avverto disagio, tristezza, insoddisfazione quando arrivano le tue critiche. Quella è la differenza. Diciamo a te sei un precisino lì con il linguaggio. Sono sfumature energetiche. Se tu parti col tu, l'altro parte plausibilmente mettendosi leggermente sulla difensiva, chi più chi meno. Invece noi non vogliamo che si metta sulla difensiva. Noi vogliamo, spiegabilmente, posto che l'altro abbia questo tipo di capacità, di solleticare la loro empatia. E quindi questo è un po' più facile se partiamo dicendo, usando forme espressive, che partono da io. Poi qui non vogliamo fare la grammatica dell'assertività. Voglio passare dei messaggi soprattutto di atteggiamento. Quindi l'atteggiamento, il modo di porsi è io ho dei bisogni, te li comunico, mi farebbe piacere se fosse anche un piacere per te portarli avanti. Quindi non è una pretesa. E questo mi sembra, grosso modo, quello che si può dire nell'economia di un video di questo tipo, di un podcast come Radio Coltiva la Crescita. Tu Cristina vuoi aggiungere qualcosa? Hai qualche considerazione solleticata da quanto ho detto fino adesso? Io credo che tu con questo video, con questa risposta, abbia fatto un dono pazzesco sia alla persona che ha fatto questa domanda sia poi a tutti i nostri ascoltatori perché molto spesso quando leggi anche nei blog, nei siti online, quando si parla di farsi rispettare, si perde proprio di vista che cos'è il punto, il cuore fondamentale della questione, cioè che andare a far rispettare quelli che sono i propri bisogni, i propri valori e le proprie passioni. Si parla tanto di assertività, si parla tanto di carisma e però dopo invece non si va al cuore del problema come invece hai toccato tu in questo video di dieci minuti, quindi grazie. A nome degli ascoltatori. Speriamo che anche gli ascoltatori appressino come hai apprezzato tu. L'ho citato prima, chi vuole iniziare a approfondire questi argomenti c'è un primo passo che è gratuito, si chiama Cambia Marcia Start, trovate il link in descrizione. Spero di vedervi dall'altra parte. In ogni caso io e Cristina vi facciamo un grande in bocca al lupo per la vostra crescita, benessere e prosperità. Vi diamo appuntamento per la prossima puntata. Grazie Cristina e ciao a tutti. A te, ciao a tutti.